Ciao, sono Norman, mi occupo di assistenza clienti e questa è Campagnola Academy. Benvenuti! Per mantenere la tua forbice efficiente, ricordati di lubrificare le lame almeno due volte al giorno. All'interno di ogni confezione puoi trovare questo ugello applicabile al lubrificante Campagnola. Vediamo come procedere. Applico l'ugello al tappo della bomboletta e procedo con la lubrificazione del perno. Potete notare il grasso che esce dalla parte opposta. Ora la tua forbice è lubrificata, buona potatura!